Quali sono gli elementi che possono favorire l'incremento della raccolta di questa tipologia e quindi il lavoro anche degli impianti a valle? Sicuramente la comunicazione ai cittadini e la comunicazione ai consumatori, i due soggetti che sono attori principali nell'attività di raccolta. A noi cittadini un'informazione su quali sono le tipologie di apparecchi che rientrano in questa normativa, quelli che abbiamo a casa e sono tantissimi, e dove poterli conferire. E a noi consumatori dei diritti che vantiamo nel momento in cui acquistando un apparecchio nuovo possiamo chiedere come nostro diritto il ritiro gratuito dell'apparecchio che andiamo a dismettere, oppure nel caso di piccolo apparecchio dove collocarli laddove i commercianti sono tenuti al ritiro gratuito del nostro apparecchio senza l'acquisto di qualcosa di nuovo.